Per questo Halloween avrei voluto consigliare Inscription, un promettente gioco di carte a tema horror, ma purtroppo non posso farlo, perché Inscription si è rivelato essere la più coccente e inaspettata delusione videoludica degli ultimi tempi. E in ultimo una gigantesca occasione sprecata. Se ti piace quello che faccio, iscriviti al canale, attiva le notifiche e lascia un mi piace. Grazie. Inscription si presenta come un gioco di carte a tema horror mischiato al genere Escape Room, presentato in uno stile originale, fatto di strani modelli tridimensionali inquadrati da veloci e robotici movimenti di camera. Il tutto visto attraverso un filtro analogico vecchia scuola che distorce l'immagine e aggiunge un ulteriore strato di stranezza e dissociazione dalla realtà, che rende ancora più difficile valutare la situazione e dare un senso a ciò che osserviamo. Questo è quanto mostra il trailer di Inscription, e se il trailer vi ha incuriosito, forse vorrete provare la demo che vi farà giocare fino allo scontro con il primo boss. Se siete arrivati a questo punto, probabilmente penserete di aver avuto un'esperienza molto interessante, e magari vorrete provare l'intero gioco, per vedere fin dove si spinge Inscription e tastare con mano quanto è fonda la tana del bianconiglio. Ed è qui che vorrei fermarvi con un avvertimento, perché questo titolo è ben diverso da ciò che avete visto nei trailer e giocato nella demo. Nascosto da una cortina di spoiler, si cela un pretenzioso metagioco nel tipico stile di Daniel Mullins, il suo sviluppatore, che guidato dal desiderio di sovvertire le aspettative, per mancanza di fiducia o lungimiranza, forse afflitto da quella che chiamo Sindrome di Shyamalan, baratta ciecamente un avvincente gioco di carte che si avvicina alla perfezione per una contrita sequenza di eventi degni al massimo di un creepypasta. Mi spiego meglio. Inscription può essere suddiviso in tre atti. La prima parte del gioco è quella che vedete nel trailer e che potete provare nella demo. Vi trovate in una stamberga male illuminata, e senza sapere il vostro nome o perché siate lì, venite approcciati da una figura indistinguibile, che vi sfida ad un gioco di carte. Le carte vi parlano, vi danno suggerimenti, commentano le vostre mosse, e discutono tra loro, mentre il vostro sfidante sembra avere una passione per la teatralità e veste i panni di decine di personaggi, uno meno affidabile dell'altro, perché per quanto ci sia liberamente permesso di alzarci dal tavolo di gioco, per sgranchierci le gambe e ficcare il naso tra i bizzarri suppellettili sparsi all'interno della stanza, la partita avrà conseguenze dolorose, che porteranno non solo alla sconfitta, ma alla nostra di partita, che verrà suggellata da una carta speciale con le nostre sembianze. Il tavolo di gioco è suddiviso tra attacco e difesa, in due file e quattro colonne. Il compito è superare le carte nemiche per danneggiare direttamente l'avversario e vincere la partita. Inizialmente, per giocare la maggior parte delle carte sarà necessario sacrificare scoiattoli, pescati gratuitamente ad ogni turno, mentre per giocare le creature più potenti sarà necessario fare sacrifici multipli, ma presto verremo introdotti a nuovi modi di giocare le carte. Le creature disponibili sono numerose, mentre le combinazioni rese possibili da modificatori e attributi speciali sono ancora di più, e in alcuni casi assolutamente sbilanciate, ma divertenti, come il totem che fa resuscitare gli scoiattoli, per una scorta infinita di sacrifici. La qualità delle meccaniche del gioco di carte sono indiscutibili, e anche se potrebbe sembrare che alcune situazioni e casi limite non siano stati previsti, verremo sempre sorpresi da una soluzione, spesso elegantemente collegata alle tematiche horror del gioco. Allo stesso modo, la parte escape room è estremamente curata, e legata a filo doppio con il gioco di carte che si svolge al tavolo. Infatti, in tipico stile roguelite, per progredire e rendere più facile ogni partita, sarà fondamentale risolvere gli enigmi disseminati per la stanza, che ci permetteranno di recuperare carte speciali da aggiungere al mazzo e oggetti fondamentali per far pendere la bilancia a nostro favore. E come ciliegina sulla torta, tutto quanto è narrato da una scrittura convincente, che in semplici parole costruisce un mondo immaginario fitto di mistero, in cui presto ci muoveremo come a casa. Purtroppo, una volta battuto il quarto boss, l'intero castello di carte messo in piedi dagli sviluppatori cade miseramente, quando il gameplay si trasforma in quello di un semplicistico GDR 8-bit. E tutto ciò che fino ad ora ci ha fatto appassionare a Inscription viene gettato via, mentre le due differenti parti del gioco vengono cucite assieme da un finto ARG e una sequenza di video amatoriali filmati alla bella e meglio, in modo tanto stupido e autodistruttivo da far cadere le braccia. Superata la parte a 8-bit, nel terzo atto si tornerà brevemente al genere di gameplay a cui Inscription ci ha abituati, ma in forma più lineare, superficiale e insoddisfacente. Quanto basta a concludere la narrativa dell'ARG senza mai tornare all'eccellenza del primo atto. La cosa più sconcertante è che gli sviluppatori devono essere estremamente convinti che questo repentino cambio di gameplay e la faccenda dell'ARG siano una scelta brillante, quando in realtà è un tragico atto di autosabotaggio. E mi stupirebbe sapere che nemmeno uno tra il centinaio di beta tester abbia tirato in ballo la questione in fase di sviluppo. Inscription custodisce un'idea preziosa, realizzata con passione, sprecata dall'ambizione dei propri creatori, impegnati a provare la propria reputazione in un futile esercizio di stile, che priva tutti quanti di uno dei migliori giochi di carte mai sviluppati. Di positivo c'è che se davvero volete provare Inscription non dovrete nemmeno pagare, perché la parte migliore si trova nella demo. Per ora è tutto, io sono Tora, vi saluto e vi auguro un felice Halloween. Grazie per avermi seguito e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!